I miei cloni ti surcrasseranno Ferre, non hai speranze Non credo proprio Stef, no Ma li hai visti quanto sono belli e potenti? Guarda, ho appena visto tre dei miei cloni distruggere i tuoi Quindi questa è l'unica cosa che conta Era un miraggio Ferre, ma guarda che c'hai dei mini cloni bruttissimi Sono forti, eh Solo i capelli rosa Non li sfidare Stef, sono forti Farne schifo, comunque la mia base è più bella della tua E quest'oggi ci affronteremo uno contro l'altro E ragazzi, come va? Io sono Ferre Niki E sono Stef, che succede come Roblox E oggi siamo qui su Clone Takoon 2 In cui io e Stef ci sfideremo Perché ci siamo solo io e lui in questo server E sarà una sfida all'ultimo clone Stef Esattamente No, 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 è proprio all'ultimo clone Cioè qua dobbiamo dimostrare chi dei due ha i cloni più belli, più fighi e più forti È molto molto semplice E questa è una nuova tipologia di video che possiamo fare su Roblox Ovvero dei server privati dove io e Ferre ci affrontiamo con delle mappe belle In questo caso appunto siamo su Clone Takoon 2 Abbiamo iniziato da un pochettino giusto per partire con un po' di cose E adesso inizia la vera sfida Voglio vedere come reagisci al Fire Type Clone Cioè sto mettendo dei cloni di fuoco Li metto anch'io, vai Andiamo a vedere che succede Allora volevo quelli di acqua io, così ti battevo Ma no, dai, io li ho messi di fuoco Poi speed level 4, così vanno anche più veloci addosso a Ferre E poi mi metto anche le porte, così Ferre non può neanche entrare a casa mia Che non la voglio qua Io ce l'ho già le porte È la mia base Però penso che si possa entrare, Steph Mi sembra che proteggano molto Però e se come funzionano i cloni di fuoco? No, non ancora Perché anch'io li ho appena messi come te Quindi non ti so dire a cosa servono di preciso Io l'ho capito Eh, io l'ho capito Aspetta, che fanno? Non te lo spiego No, che fanno? No, non te lo dirò mai Allora vado a leggere Io faccio così Ok Faccio così Aspetta, ho capito Guardate Consolini Ho capito Guardate Se ha funzionato Fatemi sognare Allora, questo è normale ed è giusto Questo qui dovrebbe diventare di fuoco Giusto? Ok, ok Ferre non diventano di fuoco Non sta funzionando Ha una scia di fuoco nella spada Ok Ok, ok, ok Quindi praticamente iniziano ad avere l'elemento del fuoco come arma Per fare più danno Ok, perfetto Quindi è una sorta di potenziamento Sì, perché ci fanno schifo È normale Mi sembra più che giusto Adesso, visto che ci sono Li potenzio tutti con l'effetto fuoco E mi dice pure cosa fa Aumenta il 20% il danno Più 2 di danno Al secondo Potrei comprarmi la Galatics Axe Per, diciamo, migliorare la mia arma di base Così fanno più danno Altrimenti Il Giant Terminal costa 1.700 per un bell'investimento Perché col Giant Terminal io posso aumentare i soldi che guadagno per ogni kill Ok E quindi diventare più ricco di Ferre e potenziare Massacralash Bim, 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 bim Pet Enclosure Che cos'è? Cos'è? L'hai preso? Sì, fammi andare a vedere Io non l'ho ancora preso quello Non so cosa Ferre, ma ci sono anche i pet Ma davvero? Ho un recinto con scritto My Pets Oh mamma mia Ma che è diventato Con pure tutto tipo il biomino per fare stare i miei pet Aspetta Ok, lo posso comprare anch'io Aspetta, fammi vedere Però credo poi di doverli comprare Che hai fatto? Guarda Fammi vedere Guarda Ferre Cos'hai? Sei pronta? Sì, vai Ma non ci credo Hai comprato una tigre Ma che servono allora? Cioè non combattono Non combattono No? Ferre Guarda Mi segue Oh Che carino Che carino Oh mio Dio È fantastico Ok Ok No, allora Torniamo a serie Questo è un video di guerra Cloni contro cloni È la fine del mondo Non possiamo pensare ai petini Però sei troppo carino Lo devo ammettere Ferre, allontanati Non ci provare a venire qui Non ci provare Non ci provare Devo prendermi anch'io la tigre Ti stanno assaltando tutti i miei cloni Ferre Non potrei mai sopravvivere Aspetta, li schivo Uccido solo la tua tigre, Stef Non ci provare La tua tigre Ho un'ascia Ma togliti Oddio, Stef È arrivato un sacco di gente Ma come hai fatto a massacrarmi? Non lo so Che spadai tu? Beh, io avevo un'ascia Ah, addirittura Sì Cioè dovevo essere No, io ho la seconda spada Cioè, e basta Non ho fatto altro Un colpo secco Dai, ho massacrato Ferre Dai, ti massacro di nuovo Ah, ok È perché ho preso danno dagli altri cloni Non ero di nuovo Con la vita piena Sì, sì, sì Dicono tutti così Ho preso danno là Ho preso danno qui E invece sei stata umiliata Ma non è vero Allora Sei stato umiliato tu Prima di me, Stef Consolini Ricordalo Mettiamo questo qua Io ormai non dico più le cose Perché altrimenti Ferre copia le metatiche Perché sappiamo che a livello di strategia Stef è superiore a Ferre Poi Ferre mi surclassa con la spada Però almeno sulle strategie posso vincere Quindi facciamo questo potenziamento Per riaumentare sempre ciò di cui parlavo prima Ok? Così teoricamente dovrei massacrarla nel guadagno Io mi sono appena aumentati i soldi, Stef È quello che ho fatto anche io, Ferre Siamo inutili Anche se non parliamo facciamo sempre le stesse cose Poi faccio questo che non so neanche che cosa serve Io vorrei un nuovo cosa di cloni Per fare ancora più cloni Anch'io vorrei qualcosa Però mi sa che non abbiamo Ok, ok So cosa fare So cosa fare Consolini l'avete visto So cosa fare Devo soltanto aspettare un attimino Quanto guadagno adesso da un'uccisione? Faccio 100 per ogni kill E com'è possibile? Perché l'ho potenziato tantissimo, Ferre Ah, ecco, no, io no Ah, 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 ah Stef È finita per te, Ferre È finita per te Dimmi Ho appena fatto i cloni di veleno Ne lascio uno di fuoco e due di veleno Voglio vedere come vanno Voglio vedere se sono forti Magari contrastano il tuo fuoco Oppure tu hai preso altro Smettila, Stef Non puoi ridere a nessuno tanto Ferre, mi hai chiesto se ho preso altro? No, gara Io al momento sto pensando ai pettini Perché voglio batterti sulle cose pucciose Ma no, io devo vincere la guerra Non ho preso nessun'arma segreta e potentissima Solo come premio quando si vince, Stef Non funziona così Ognuno ha la sua tattica, Ferre Al momento io non ho nessun'arma segreta e super potente Nella mia base che si sta caricando in questo momento Certo Quindi puoi stare più che tranquilla Guarda, fai tutto quello che vuoi C'è il broglione e basta No, 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 no Sei pronta? 3 2 1 Vado Che cos'è però? Non me lo dici Ma dove l'hai tirato fuori? Alla carica Ma dove l'hai tirato fuori il gigante? Vai gigante Spaccali tutti Ma come è possibile? Cioè guardalo Devi spaccare tutti gigante Devi disintegrarli Ci ho messo un sacco a caricarti Massacrali Oh mio Dio ti sta prendendo a calci Ho visto tutta la scena È stato bello Ha dato due calci a due cloni e poi è morto Un po' schifo Steph Mi dispiace però Io per caricarlo ho dovuto bloccare la produzione di tutti gli altri cloni E che ti devo dire? Ed è morto così Costava pure 1700 Eh ho notato sì Steph Non è stato molto utile Hai deriso il mio gigante? Sì assolutamente Adesso me la pagherai E dai Steph hai fatto ridere a tutti Non è colpa mia Sì 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 Va bene va bene va bene Vediamo se riderai di nuovo Vediamo se riderai di nuovo Tantissimo Steph Sì 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 Derò riderò Certo 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 Sicuramente Fere Sicuramente riderai Quello stai confabulando Almeno dillo Ho preparato la clone controller Mi permette di utilizzare tutti i cloni E di comandarli per combattere Fere Ti rendi conto di quanto sono più potente adesso? Sei vergognoso Sei davvero vergognoso Ti rendi conto? Sono il più potente del mondo Nessuno potrà più vincere contro di me E comunque se tu te lo stai chiedendo La battaglia tra mete non è finta Nel senso che non è che ce la stiamo inventando C'è un pannello Che dà le statistiche dei nostri cloni Ok Lo so l'ho visto E che ci permetterà di determinare Chi ha avuto i cloni più forti Perché avrai segnato sia le kill sia le morti Quindi quello che avrà il rapporto migliore Tra kill e morti Certo certo Avrà vinto Ho pensato un nuovo piano malefico Fere E questa volta non fallirò Allora Consolini guardatemi Sommerò questo Ok A questo Secondo me Creiamo un'arma di distruzione letale E questa volta freghiamo Fere Vedrai Fere No dimmi No 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 3 2 1 Nuovo gigante Fere Però Questa volta Vado ad affrontarlo personalmente Stef Non fa? Non fa? Oh mio dio Cosa stai facendo? Non ti capisco Volevo controllare il gigante Appena scoperto che non fa Ma mi dispiace Stef Ogni cosa che pensi Ci ho messo 10 minuti Però vado Vado Ok Ok bravissimo Questa volta sta andando meglio Questa volta sta andando meglio Andate giganti Distruggete tutto E anche l'unicorno di Fere Dove sei Fere che tanto volevi affrontare il gigante? Sono morta Adesso sto tornando Ah sei già morta Non dici nulla Sono arrivati anche un sacco di cloni Non puoi affrontare da solo il gigante Capito? Sai che sto facendo tantissime kill? Ci sono tante cose Lo sai Fere che sto facendo un sacco di kill in questo momento eh? E ora dello scontro finale Fere E ora dello scontro finale Sei pronto? Prendo la mia spada in diamante Guardate come ho reso esteticamente i miei cloni adesso Sono tutti come me Siamo molto più cattivi Perché sei così serio Stef Non c'è bisogno di Perché Fere è una nuova creazione Di fare tutta questa faccia seria Boom 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 Hai una moto Cioè ma io sto pensando a potenziare le cose E tu pensi alle fesserie Tu compri solo le fesserie Stef Cosa? Cioè compri solo le fesserie Sei sicura che questa è una fesseria? Sì è una fesseria Ne sei sicura? Mi stai vedendo arrivare? Vabbè sei ridicolo Mi vedi? No io davvero Cioè lascio perdere Guarda lascio perdere Adesso i miei cloni sono qui pronti all'assalto Cloni Datemi una mano Ti ho appena mandato una fere gigante Sei un gigante fere cloni Ma scusa ha preso a calcio il mio clone Siete carichi? È un po' stupido sto gigante Stef Tu non mi vuoi affrontare fere? Va bene Ma dove sei? Ma questi cloni partono Andiamo cloni Non lo so Stanno un po' fermi Stef Devo abitare qualcuno Un tuo clone Sei molto brutto vestito così Perché non ti vesti normale? Ah mi vuoi affrontare uno contro uno? E beh c'è Vieni allora Dai Dai Su Ti massacro Ma che spada hai? È fortissima Spada di diamante fere È forte È forte Come ci sei arrivato? Spendendo tutti i miei soldi Nelle ricerche giuste Ho visto che gli stessi tutti Aia sono morto Allora Però quel veicolo è davvero una cosa inutile Perché li ho partati lì? Si sono flippati E non hanno più fatto nulla Ma non è possibile È il momento del verdetto per vedere chi ha vinto Allora Per ora Perché questa sfida non è completata Stef Sarà completata quando avremo tutto finito E vedremo chi vince Te lo dico già Va bene Basic 50 a 48 Allora 57 a 46 Ok Quindi hai un 11 di vantaggio Allora mi devo segnare tutto Devi iniziare a segnare le sue cose Vai Ok Poi Fire 213 154 Tantissima la differenza 134 106 Ok Quindi hai un vantaggio di 28 Ok Su questo Mentre io 214 A 56 Abbiamo 44 58 Ok Se lo dici tu Se lo dici tu Va bene Stef Ti tocca fidarti Fede Eh sì Siamo a 60 e 39 per me Air Zero Perché non l'ho usata Idem Poison 93 a 70 93 a 70 Che fatica questi calcoli Fede Infatti non so perché lo vuoi calcolare così Cioè secondo me bisognerebbe fare la somma e la somma e vediamo chi è andato 91 a 62 Mystic Mystic La faccio alla fine L'ho usato poco quindi 8 a 7 8 a 7 Quindi 63 Mentre per me 23 a 18 quindi più 5 Ok 96 Electric 44 a 43 44 a 43 Ok abbiamo finito 96 Io non mi fido di te Stef Quindi rifaccio un attimino il calcolo Poi decretiamo tutto 96 a 64 Se hai ragione io E nel caso ti ho massacrato Adesso fai i tuoi calcoli e vediamo se hai ragione Voglio la rivincita Stef I miei calcoli erano giusti? Domani Ecco i miei calcoli erano giusti Domani ci organizziamo e facciamo Basta non ci parlo più Basta basta I miei cloni Stanno ammazzando i tuoi vestiti da pinguino Già da 5 minuti Ma non ti avevo detto nulla Lasciateci un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao Ciao